Stiamo entrando nella fase di convivenza con il coronavirus, con tutti i rischi che questo comporta per la vita di tutti i giorni e per il comparto produttivo del Veneto. Parola di Luca Zaia che conferma. Dico che non è un atto di irresponsabilità. Qualcuno giustamente dice si potrebbe attendere ancora un po'. Tutto si può fare, però un po' vuol dire che comunque le misure che attuiamo oggi sono esattamente quelle che attueremo tra un po', perché ci sarà sempre il virus. Non è che se attendiamo una settimana in più, due settimane in più, tre settimane in più il virus se ne sia andato. Si sappia che questa è una fase di convivenza con tutti i rischi, ve lo riscaldisco bene, con tutti i rischi che ha una fase di convivenza. Zaia lancia anche un avvertimento in stile pubblicità progresso. Se dovessimo pubblicizzare, fare una pubblicità progresso in questa fase dovremmo dire attento perché la morte è dietro l'angolo. Se ci vuole responsabilità.